Arrivo buon ultimo con un ritardo dovuto alle cose della vita a occuparmi del Dylan Doggold Boy numero 26 che ha una particolarità rispetto agli altri, cioè quello di ospitare una storia sola che quindi, diciamo, siamo sulle 190 pagine insomma, un'unica storia anziché le due che compongono i volumi di Dylan Doggold Boy come di solito. Il titolo è Chuck si uccide e la copertina di Marco Nizzoli come vedete è una sorta di quarto stato in versione zombesca surfista, ecco diciamo così come abitudine d'altra parte delle copertine dell'Old Boy non c'è corrispondenza tra la storia che è contenuta nell'albo e appunto la copertina dello stesso. Giuseppe De Nardo è l'autore del soggetto e della sceneggiatura mentre i disegni sono di Luigi Siniscalchi, quindi due dilandogiani di ferro. De Nardo è un veterano proprio di Dylan Doggold. Io mi ricordavo, in particolare c'è una sua storia che mi ricorda, Bissi di Follia, che tra l'altro dovrebbe appartenere ai primi 100 numeri che si segnalava per una grande complessità della trama e questa complessità l'ho ritrovata in questo Chuck si uccide che come dice il titolo è un albo appartenente diciamo così al sotto insieme degli albi cinefili di Dylan perché non è l'unico, sappiamo benissimo come il cinema sia un serbatoio di ispirazione fortissimo per Dylan Doggold e fortissimo per il suo creatore Tiziano Sclavi anche al di fuori dello stesso Dylan Doggold anche per il Tiziano Sclavi romanziere, non solo per il fumettista, è importante il cinema. Qui non è solo argomento ma anche diciamo ulteriore fascinazione visto che tanti personaggi, anche personaggi più che secondari che occupano lo spazio di poche vignette assomigliano ad attori famosi. Si va da William Marth a Elliot Gould e si parte, si parte subito con la Marlene Dietrich la Marlene Dietrich di Testimone d'accusa di Billy Wilder, la vediamo, vediamo questo personaggio che poi in realtà si chiama Patricia Looming ed è un critico cinematografico la vediamo proprio abbigliata come la Dietrich nel grande film di Wilder. Ma tutto verte su un regista immaginario, naturalmente Frederick Mauser ricalcato sulle fattezze di Friedrich Murnau è un film maledetto di cui si è persa la pellicola. Questo film si chiama L'angelo della morte e di fatto il personaggio centrale del film che è interpretato da un attore di nome Klaus Kleber è anche il motore dell'azione perché uccide delle persone spesso sotto gli occhi dei nostri protagonisti sotto gli occhi dei nostri protagonisti e a un certo punto anche di una videocamera di sorveglianza scompare. Quindi un incubo per qualunque inquirente diciamo, una cosa del genere cioè abbiamo proprio un irrazionale che si presenta nei momenti che si presenta nella vita vera durante l'indagine. In tutto questo poi Dylan frequenta una ragazza, Madison che è proprietaria di un cine club dove appunto si proiettano film de sé e abbiamo anche una cliente una cliente che si chiama Meredith Cutshort una bionda molto bella e anche molto misteriosa che niente meno dà a Dylan proprio le uniche pizze rimanenti di questo film perduto cioè pochi istanti di questo L'angelo della morte. e dicevo è una trama molto complessa io l'ho letto due volte non escludo cioè io mi prendo poi anche le mie responsabilità perché se io dovessi dire che ho capito tutto ancora non l'ho capito e questa cosa è stato anche se io e da che ho aperto il canale che dico che non mi interessa capire quindi cado in una contraddizione che non mi fa onore però diciamo in questo caso poco c'è stato che ha compensato la mia perplessità sui fatti che si succedono nella trama ecco un po' come succede nelle certe grandi narrazioni hardboiled e secondo me questo è anche un po' un Dylan hardboiled ecco come succede nel grande sonno che vuole la leggenda che gli sceneggiatori Faulkner, Brackett e Furtman non capissero che cosa succedeva a un certo punto chiedono a Chandler Lumi e lui praticamente lì gli dice ragazzi mi dispiace ma manco io so che cosa succede nel mio romanzo io cerco di buttare fumo negli occhi quindi non c'è nulla di male nel buttare fumo negli occhi del lettore però diciamo in questo caso io ci ho trovato ecco diciamo così che più che la complessità ci ho trovato la complicazione quindi probabilmente se questa complicazione io l'avessi trovata nella metà delle pagine l'avrei chiamata complessità e e avrei provato più piacere nel leggere l'albo così mi sono un po' stancato devo dire la verità sono arrivato col fiato corto a pagina 194 e anche un pochino annoiato mi dispiace dire questo perché poi nelle note introduttive lo stesso Denardo dice che è stato sollecitato da Tiziano Sclavi in persona ad ampliare la trama visto che i personaggi erano troppo diciamo così troppo complessi per esaurirli in 98 pagine e quindi e da qui si è deciso di fare un appunto un albo più lungo del solito diciamo è non dico che un albo che leggerlo è una perda di tempo questo no assolutamente non dico nemmeno che non si provi qua e là qualche qualche emozione diciamo così leggendolo però nel complesso ecco la la sua lunghezza e la sua complicazione non non mi ripagano abbastanza del del tempo dedicato alla lettura e e questo è insomma il mio sentire oltretutto l'albo ha una scansione che potrebbe essere anche affascinante perché si divide tra il nostro tempo presente e il tempo passato e questa cosa coinvolge coinvolge strettamente Dylan e questo sicuramente è un qualcosa di suggestivo perché ci mette così a così a a contatto da vicino con quelli che sono le occorrenze principali della storia una su tutte c'è una casa di produzione che si chiama Sledge che rifacendosi poi a la Hammer di anglosassone di la Sledge degli anni 30 la Hammer credo che cominci a produrre negli anni 40-50 e insomma questo fa anche sorridere perché potrebbe essere anche una piccola strizzatina d'occhio a Peter Gabriel però insomma non per ripetermi ma nel complesso è un diciamo è un old boy di cui riconosco il fascino diciamo ma non non tanto da farmi palpitare il cuore diciamo un old boy che ammiro ma che non amo per usare una vecchia categoria di un critico cinematografico di tanti anni fa che si chiamava Guido Aristarco i disegni di Siniscalchi secondo me riaffermano quel mio sentore hardboiled che così ho professato poco fa e niente questo questo era quanto questo era quanto da dirvi il prossimo il prossimo albo che esce il 15 ottobre quindi siamo verso Halloween lo aspetto con un certo con una certa attesa perché torna in pista Paolo Baciglieri che è un autore che io amo molto tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata no 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 no